La tifoseria contesta e la società corre ai ripari. E così il DG Carmine Donnarumma consegna alla piazza il difensore centrale Domenico Marchetti, che nelle intenzioni dovrebbe risolvere i problemi di tenuta del pacchetto arretrato. Potrebbe, d'altronde, non bastare. I limiti dell'organico giallorosso, sollevati dalla torcida del Ceravolo al termine della disastrosa gara d'esordio contro la Casertana, erano emersi in tutta la loro evidenza già nel corso del precampionato, con una trafila di amichevoli più che deludente. Hanno pesato sugli umori dell'ambiente le vicende che, seppur collateralmente, hanno coinvolto la società giallorossa nell'inchiesta di Artisoccer. In un clima di incertezza è stata così avviata la costruzione della squadra, affidata a un gentleman del calcio calabrese come Carmine Donnarumma, ma la squadra non risponde ore alle aspettative. In avanti i due che dovrebbero fare la differenza non trovano sintonia. Razzitti appare troppo egoista, Mancuso sparisce. A centrocampo selvatico parla un'altra lingua rispetto ai compagni, mentre in difesa in certi momenti è peggio che andar di notte. Serve una svolta e serve subito.